bella di padella bentornati mi raccomando con facebook twitter iscrivetevi se non l'avete ancora fatto che che poser che siete se non fate ma perchè gli poser mamma mia siete dei camperi guarda se non vi iscrivete vuol dire che siete dei camperi ma io sono un campero capo infatti non mi sono iscritto tu vedrai non è che puoi iscriverti al tuo canale ragazzi che fatica e questo guarda dice a chi è stato sono stato io ancora vivo e vaffanculo comunque il potere dei tuoi cazzati sta scemando proprio no perché è aumentato il loro livello quindi hanno più vita questo è proprio se ma aveva tre di vita ma mi è piaciuto come si è sgrettolato sul naso c'è un altro lì eh ah no era un giocatore ma che figlio questo ma tu riesci a capire anche da come sono vestiti se è un un hunter lo chef tony il titan o il mago non ho idea capo no in realtà si si potrebbe ma dove deve andare porco zio dimmi dove deve andare dietro come dietro l'oscurità diventa potente no dobbiamo intervenire la stazione della parabola e nel prossimo settore però come scappa dai giù no porca boia sono quelli e quelli eh sono quello di cecchini hai visto che mi ha fatto male però l'ho preso in te attenzione questi cazzo di proiettivi sono pure homing e ti seguono cazzo sei sicuro? si dove sei? qua qua adesso vedi che c'ho la barra gialla che lampeggia sopra le armi eh quello vuol dire che ho la super carica che non è che la puoi usare sempre e quindi tu la stai speccando? no ok sto tenendo per un momento propizio ci avviciniamo alla stazione di controllo eccola porca boia ma là c'è un tipo che mi spara no non è uno sono tipo mille ecco lo scazzo di questo gioco è trovare un'arma decente cioè se non trovate se avete sfiga con i drop volete ritrovarvi a fare un bel pezzo di gioco con un'arma che fa cagare a spruzzo tipo questa ma questa è ancora decente sai perché sono in livello basso qui dovremmo essere almeno al 6 invece siamo? al 5 c'è scritto vedi che è là sotto no 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 porco zio questo è dove salta fuori via 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 c'ho mai visto un milano a cazzo e quei proiettili ti seguono? te l'ho detto che sono una cosa incredibile sono homing capo ma che culo ho ammazzato un altro per sbaglio dai non vede coglione secondo me tu devi essere spettacolare a giocare al multiplayer quanto gli insulti di quelli che uccidi grandissimo là sopra questi qua sembrano tipo dei droni proprio no non l'ho preso sono un fallito scrivete te con i menti vogliamo un quickscope vogliamo un quickscope no such fail no no cazzo è vero che qua ci sono questi tre mi sono scordato figlio perché qua resto perso vero sì perché ci sono alcuni eh ve l'ho scordato che qua ci sono alcuni pezzi dove puoi morire spettri e guardiani vogliono come non mai la stazione della parabola è nel prossimo settore oh cio cecchini questo sembra un ATM praticamente lo è praticamente nella maggior parte dei posti potete morire senza problemi che riniziate se ti ricarichi preso in testa hai visto che ho fatto quando spruzza dalla testa vuol dire che l'hai preso in testa comunque dicevo che nella maggior parte dei casi potete morire senza problemi in alcuni posti quando vi dice area rientro limitato eh se crepate dovete rifare l'area non ho stato chiaro è un po' sbatti però questo no eh mi sembra giusto cazzo se no è troppo semplice scusa ma i bimbi micchiano utellosi come me lo vogliono semplici eh li arrangiate succhiate non ti pare di essere un po' di essere troppo poco giusto vorrei essere ancora più giusto lo giochiamo solo a difficile non so se vuoi morire 3000 volte hai paura di morire non sei Mujahideen sai che Mujahideen è? tra l'altro ce la ti ricordi? no silenzio non mi interrompere quando spiego cose storiche di alta importanza cos'è? dai dì la tua dai illuminaci perché fai così? volevo saltarci sopra ma questo coglione non salta i Mujahideen? comunque tipo i Mujahideen se non mi ricordo male tipo si facevano il funerale prima di andare in battaglia cioè tipo meglio diventavi un Mujahideen una volta che ti facevi il funerale cioè capito quindi eri già morto quindi non avevi paura di morire perché sei già morto chiaro ma quindi se domani io ti faccio il funerale Joe tu non hai paura di morire? già dai non ti convince molto anche a me ma che cazzo ma non muore? non l'ho preso in testa? ma va lui si ma guarda guarda quello come corre Fearless a proposito di gente Fearless non è ancora morto? dove è andato? no l'ha evitata che culo pezzo di cazzo sei teletrasportato ma vaffano sto pezzo di merda sei teletrasportato la scurità diventa potente spettri e guardiani muoiono come non mai dobbiamo intervenire la stazione della parabola è nel prossimo settore tira cazzotti a destra manca come solo tu sai fare questo? cioè proprio cioè mi è caduto tra le braccia vabbè ma dai aveva carenze affettive no ho preso il muro dove andrà? un attimo ti distrai loro figa che so sono sono professionisti del giro tondo pronti siamo duri cazzo duro siamo alla stazione di controllo eccola vorrei fare il figo ti giuro che non mi viene neanche da commentare rimango a bocca aperta dai cazzotti che tiri cioè i film di Bud Spencer e Terence Hill non sono nulla al tuo confronto tu volevi fare il mago tra l'altro tu volevi fare il mago cioè proprio il personaggio peggiore del gioco ma sei quello su cui hai livellato di più eh ho capito e fa cagare cazzo vi devo dire è stato un errore comunque io avrei scelto subito dopo l'Hunter ma è il Titan e tu mi dici che il tuo preferito è l'Hunter quindi vabbè cazzi devo dire cogliandro cogli o cogliandro ah no è arrivata l'anonima navicelle volanti guarda ma vuoi stare ferma ti trollano malagrande queste cose guarda lì eccoci tac e Johnny magia guarda 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 che pezzo di no non riesco minchia non riesco io cioè sono troppo scarso dai tre colpi ho sprecato comunque è figo eh il fucile da cecchino vaffanculo sono un coglione ma dai ma perché l'ha sparata così bassa vaffanculo che dici italiano? ma ah non lo so diventa potente spettri e guardiani muoiono come non mai io aggiungerei specchi spettri scusa e come cazzo si chiamano guardiani che sto per dire gabbiani muoiono come non mai e anche Joe aggiungerei ma perché sono a livello sono un livello troppo basso cazzo ma se continua a morire diventi secondo me livello 90 ma va non vedi che sono livello 5 ma non sono neanche a metà del livello 5 dov'è? ma usa queste skill del titan ma guarda che io mi sono suicidato con la mia bomba non so se ti sei se sei reso conto ci avviciniamo alla stazione di controllo eccola sei reso conto capo si comunque la voglio anche io la nave c'è la che sparisce a Milano sarebbe utilissima perché parcheggi in divieto di sosta è da far sparire ma diventa invisibile o sei del trasporto? eh perché tu dici che magari vanno contro la tua macchina perché non la vedo che sbattimento di cazzo dai su muori coglioni figa ma basta veramente una scorreggina a farti male che sasso è guarda che stanno arrivando ma non puoi tirarle da un'altra parte ma cos'è che mi sta sparando dai è ancora quello lì ah no c'era questo pezzo di cazzo ti prego recupera vai da qualche parte recupera bomba minchia ma che malata ti dire anche lui stai fermo recupera ma guarda eh hai visto ma noi dovemo pigliare quell'arma di team mage però naturalmente non si potrà prendere perché è la loro ma fa cagare e spari a cazzo e ti arrivano i proiettili lo stesso dici ma è troppo lenta andato che arriva i proiettili e i gullati ne hanno già ammazzato sto morendo di cazzo cazzo devo dire fa un caldo allucinante questo non è piaciuta ma questi che stanno invisibili possono starci per quanto tempo boh fino a quando vogliono portami dentro e vediamo se i codici eh ma che cazzo dai è andato no che mi ammazza cazzo dov'è perché lo scudo di merda si ricarica vai ah mi ha droppato pure l'oggetto e in gramma ci fa io voglio dire che è un oggetto non comune non identificato magico laser ok negoziazioni cristo sistemi reticolo di sicurezza verificato funziona fuori la parabola si sta aprendo minchia zio questo chi è la parabola di mediaset incredibile si sta attivando che ha conquistato la russia e la spugn dov'è cazzo ma cosa assomigliano questi che cazzo che sta ma quelle robe si ma adesso questi mi scopano mamma mia vai dentro vai dentro riparati eh vabbè dove è andato neanche se ti nascondi qua dietro guarda che cazzo figa occio occio minchia la vedo dura ma per questa cretina eh ma va non ho visto quanta roba ha troppato ha troppato delle munizioni normali e speciali and e va ma questo oh cazzo ma questo è un cavaliere porco zio ma cosa ci fa qua un cavaliere via scatua è un cavaliere quindi eh vuol dire che fa un casino di male kb perché sta venendo abbastanza incazzato da te sei uscito uccidolo e ho fatto l'ala ultimate arena beh però dai cazzo è stato bravo o sarà il cavaliere dell'apocalisse eh ma porca troia questi mi scopano eh ma porco zio ma ne inizi da qui o c'ha tanta vita ma minchia si ricarica troppo lentamente stai attento che questo cosa ti sputa quelle cose viola che ti fanno un sacco di male ma non mi mettono da un lato poi mi sposto dall'altro astro sepolcri dell'alveare arrivano adesso guys che non me li ha sparati adesso cazzo andato non vai a prendere le munizioni sono troppo lontane se vado là credo attento che magari ti spara questo le cose viola se riesci a prendere il timing li colpisci solo te eh porco cazzo però dai scappa dove è andato là ah dai che è morto ma poi ci sono se puoi riparati dietro che recupera l'energia eh ma ci sono troppo lontane ma sono troppi cazzo fai le ultime cioè proprio proprio al limite che cazzo che cazzo bravo bravo bella granatina che fai non la tiri eh ma che minchia dai via via morto eh ma che cazzo ma la puoi rifare quella ultima no non vedi che non c'ho qualcosa giallo non posso fare neanche la bomba ma si stanno caricando tutti chi è che sta sparando ah c'è qua un tipo vaffan leva di là il cazzo dove è andato? là ma quello che cos'è? un cavaliere? tento che si è ripreso forse abbiamo finito questo lo devi vedere vediamolo guardalo ah devo andare di là per voi la parabola è controllata per l'ospedale ultimamente non ti farà entrare si sta collegando alle strutture difensive di tutto il sistema però potrebbe esserci qualcosa là fuori qualcosa in grado di aiutarci a sopravvivere all'oscurità nessuna taglia attiva che cosa sono le taglie? le taglie sono delle robe che devi fare che ti danno ti danno un npc ti danno un npc in la città e ti danno delle recompense ma fai anche expertise cazzo cosa significa in italiano? xp no lo standard di ferro chiama i guardiani del crogiolo finchè possano essere prove loro missari ottenere la torre evento a tempo limitato minchia penso che sia che ci puoi giocare poco perchè di solito perchè questo qua era perchè come si dice questo qua non era abilitato ieri capito? era abilitato solo la prima cosa allora magari lo faccio ma non hai chiuso no quanti minuti siamo? no però considera che probabilmente lo vogliamo tagliare ma quanti siamo? 22 beh cazzo poco va bene vabbè ma non tagliare anche se sono morto qualche volta che se ne potte e come lo chiamerò la sagra dei fei? ma si sti cazzi e sbiricuda dove la metti? allora questo video sarà un pochino più lungo perchè dov'è giulio quando c'è bisogno di lui? perchè? no per sbiricuda giò così a muzzo sai quante volte gliel'ho detto sbiricuda ma perchè fa così caldo? cioè io ti giuro non riesco a commentare dal caldo che ho vedo la madonna e guarda il supertelevisore quello è san pietro guarda ma vai a controllare che arrivi aria fresca ma evidentemente io non la si ma tanto non dovrebbe fare lo swing boh come se non ci fosse no non ti mettere davanti alla tv non sei niente ancora per poco no però non ho l'armatura magica che sasso voglio da magici da oggetti magici derivano guarda adesso come ci vio Tengoku FR1 questi due sono uguali gigoku S3R S3 SR3 SL fucile di cognizio questo fa un botto di male Goku questo qua mi fa fucile di similato sopporto e fucile si perché secondo me non hanno i vantaggi dell'uno e dell'altro ragazzi siete degli amanti dei fucili similato automatici scriveteci sotto perché vediamo un po' queste armi scegli una ricompensa ma questo è il mitraglione foglione mitragliatrice allora o il giullare S3 dove è il giullare? questi due uno giullare l'altro di Accor sono dei lanciamissimi ma non li voglio micchia questo cadenza si però la gittata è minima provala facci un giro provala facci un giro ma andiamo a Nobita vuoi proprio provarlo così no boh dai va bene ragazzi alla prossima mi raccomando state connessi e bella lì